Il messaggio del Papa ai giovani di tutto il mondo. Dio non delude nessuno. La scheda. Cari giovani, so che c'è qualcosa nei vostri cuori che vi agita e vi rende inquieti. Perché un giovane, che non è inquieto, è un vecchio. Perché la gioventù crea inquietudine. Così Papa Francesco, a pochi giorni dalla partenza per Cracovia, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, in un videomessaggio ai giovani partecipanti all'evento intitolato Insieme 2016, svoltosi nei giorni scorsi a Washington negli Stati Uniti. Ma qual è la tua inquietudine? domanda il Papa, rivolgendosi ad ogni singolo giovane. Di qui, rende noto Radio Vaticana, l'invito a partecipare all'incontro di Washington per incontrare una persona, Gesù, che è l'unico che può dare una risposta a tale inquietudine. E stai sicuro, te lo garantisco, non ti sentirai frustrato, aggiunge Papa Francesco. Dio non delude nessuno. Quindi il Pontefice sottolinea Gesù ti aspetta, è lui che ha piantato nel tuo cuore i semi dell'inquietudine. Forza, non hai nulla da perdere, prova, e poi chiamami, conclude il Papa.